Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è il momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Per le statali segnaliamo sulla statale 12 di Drabetone del Brennero, senso unico alternato tra Giardinetto e Popiglio al chilometro 65. Ci spostiamo su raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra Firenze-Certosa e San Casciano Nord in direzione di Siena. E ancora sulla statale 680, Grosseto-Fano, riduzione di carreggiata per Frana tra Alberoro e Montagnano per chi viaggia verso Montagnano. Ultima pagina per il traffico ferroviario, regionale 11804, Montevarchi-Terra Nuova, Prato Centrale sta viaggiando con 22 minuti di ritardo. L'arrivo a destinazione al momento previsto alle 15.10, salvo recupero. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie! Grazie!